ok ti piace il progetto si 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 a te non serve a sticcare tanto proprio appena vedi che lui si inclina quel punto puoi iniziare anche tu perché se aspetti tanto proprio cioè aspetta poco veramente non gli vienici addosso ok buon salto ragazzi buon salto ok 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 io ti sono quando vuole ok ok Tu sei pronto? Si Voi tu a do po' comandante no? Puoi tranquilo Ok Buon salto Bien Salto Ready Set Go Ok 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 Puerda Ok Vamole Dios Por que muevo tanto las manos? Pinta Si Wabonde La oi 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 dios no el cálculo no me da ok Ancora con la power un decisión no 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 dios wey o aterrato es un aterracho que veis ok y con un twist bueno andale uuuh 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 uuuh